PICCOLE E MEDIE IMPRESI Presentazione ufficiale per Crawford e Kallionski, neoacquisto della Pallacalestro Brescia. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi, con Apollo è la sola forza del vapore. Buonasera dalle telegiornali, dunque come avete sentito dai titoli in primo piano c'è l'economia perché dopo Covid nonostante siamo nella settimana di ferragosto, le aziende, molte hanno chiuso ma molte continuano ad essere alle prese appunto con la situazione economica. E uno dei problemi che stanno riscontrando le aziende in queste settimane, secondo ConfCommercio, è proprio la ricezione dei pagamenti dovuti che vengono ulteriormente dilazionati. Non bastano le ovvie difficoltà dovute al lungo lockdown. Le piccole e medie imprese bresciane e lombarde, dopo l'emergenza sanitaria, devono tornare a fare i conti con un vecchio problema. Oggi purtroppo in aumento, i ritardi nei pagamenti. A lanciare l'allarme è Confartigianato, che ha cercato di rendere l'idea di quanto questa problematica sia oggi più che mai radicata attraverso un sondaggio a 550 imprese della nostra provincia. Il dato parla chiaro. Il 47,5% delle imprese bresciane ha riscontrato un aumento dei ritardi. Più di metà delle imprese sondaggiate, inoltre, afferma di aver avuto recenti problemi di puntualità nell'incassare quanto dovuto. In un momento come questo, dobbiamo premiare le virtuosità e rigettare la mancanza di puntualità nei pagamenti, ha commentato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti. Lo dobbiamo alla salute economica del paese e alla tenuta di tante piccole imprese che costituiscono l'ossatura di filiere che, una volta rotte, potrebbero non riuscire più a ricomporsi. Il 10,6% degli intervistati riceve pagamenti dopo più di 120 giorni quando la soglia stabilita dalla legge è invece di soli 60 giorni. Solo il 42,5% delle aziende può annoverarsi fra le realtà che ricevono quanto dovuto entro i termini. Nel 57,5% dei casi il limite viene infatti sforato. In Italia i tempi di pagamento per le imprese B2B si attestano in una media sui 56 giorni, più del doppio dei 27 del Regno Unito e dei 24 della Germania. Parlando della pubblica amministrazione, il confronto è ancora più impietoso. 104 i giorni di attese in Italia, a fronte dei 33 della Germania e dei 26 del Regno Unito. Ed ora andiamo da uno sguardo ai dati diffusi da Regione Lombardia, come sempre, ogni pomeriggio sulla situazione dei contagi a Brescia e nella nostra regione. Nessun decesso in Lombardia, questa è indubbiamente un'ottima notizia. 7 casi con Brescia che ha la crescita più alta. Ricordiamo per dovere di cronaca che 7 nuovi contagi non corrispondono a persone malate, ovviamente. Tanto è vero che i ricoverati rimangono stabili, il numero dei ricoverati in terapia intensiva. In tutta la regione sono 9, quelli non in terapia intensiva, 5 meno rispetto a ieri, si attestano a 150. Nessun decesso, come dicevamo, per quanto riguarda il Covid, ovviamente, in queste 24 ore. E tra le conseguenze, ovviamente, la gestione della conseguenza per quanto riguarda la situazione in cui viviamo è quella relativa alla ripartenza delle scuole, sia quelle primarie, sia appunto gli asili nido per l'infanzia. C'è stato un po' un ping pong tra le date, competenza dello Stato, competenza della regione, ora è arrivato un chiarimento. La regione potrà, appunto, proporre la partenza per quanto riguarda i nidi. Dopo le richieste di anticipare la data di riapertura degli asili in Lombardia, il Pirellone aveva risposto che questa decisione spettava al governo centrale. L'esecutivo, però, alla fine, ha deciso di riconoscere alla regione questa scelta. Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal ministro Azzolina, che conferma la nostra competenza a fissare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola dell'infanzia, hanno fatto sapere dalla regione. Una competenza che il governo aveva avvocato a sé nell'ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo dall'esecutivo della regione Lombardia. La delibera, approvata tempo fa da regione Lombardia, infatti, ne stabiliva l'inizio il 7 settembre. Se il governo aveva imposto come data utile per la riapertura dei servizi per l'infanzia il prossimo 14 settembre, una delibera regionale antecedente aveva individuato la ripartenza una settimana prima. Sarà quindi questa la decisione. Via agli asili il prossimo 7 settembre, ma viene in ogni caso posto l'accento sulle misure di sicurezza, che dovranno essere garantite per tutti. C'è un bando di regione Lombardia che è stato dedicato alle strutture turistiche. In questo posto Covid potrebbe essere davvero molto comodo. È un bando che prevede il 50% di quanto erogato a fondo perduto. Per il turismo è una stagione sicuramente non facile. Covid e lockdown hanno messo a dura prova gli esercenti e il calo dei turisti stranieri è un'ulteriore botta da sostenere. Per venire incontro a queste realtà, regione Lombardia ha emanato un bando dal valore di 17 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e per strutture ricettive all'aria aperta. La misura vuole garantire nuova linfa all'offerta ricettiva del territorio, fanno sapere in una comunicazione, promuovendo la ripartenza del comparto e rendendo inoltre più attrattive le montagne, i laghi e le città d'arte della Lombardia. Lo stanziamento è dedicato alle micro, piccole e medie imprese e finanzierà al 50% o fondo perduto progetti per un investimento minimo complessivo di 80 mila euro con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200 mila euro. Le domande potranno essere presentate fino a giovedì 15 ottobre 2020 ma esclusivamente in forma telematica accedendo alla piattaforma www.bandi.servizi.rl.it. E dopo qualche mese di incertezza, perlomeno in cui non era ben chiaro cosa si poteva fare per ottenere il rimborso dei servizi non goduti, stiamo parlando dei treni per coloro che avevano un abbonamento regionale, ad esempio trimestrale, semestrale o annuale, Trenord ora ha dato tutti i chiarimenti. I rimborso avranno attraverso un voucher ed è possibile richiederlo entro il prossimo 31 ottobre. A causa del covid, il 2020 è un anno di annullamenti, rinunce forzate e in alcuni casi di rimborsi. Così almeno ha deciso Trenord che metterà a disposizione dei voucher per venire incontro alle richieste dei molti viaggiatori che durante il lockdown non hanno ovviamente potuto soffrire dei titoli di viaggio già acquistati. Si tratta di tutti i possessori di un abbonamento per il mese di marzo 2020 o un abbonamento trimestrale o annuale con validità che comprendeva i mesi di marzo e o aprile. Queste persone avranno diritto a un voucher del medesimo valore dell'abbonamento mensile o della quota parte della mensilità non utilizzata delle altre soluzioni. È già possibile inviare la propria richiesta di rimborso al sito di Trenord. La scadenza, al momento, è fissata per il prossimo 31 ottobre. Tutte le domande presentate nei mesi scorsi e sospese in attesa delle disposizioni governative dovranno essere però integrate accedendo all'apposito form online allegando il modulo di autocertificazione previsto dalla nuova legge. Secondo le disposizioni regionali il voucher sarà nominale, non frazionabile e di importo pari al valore della mensilità non utilizzata. Siamo alla cronaca con la storia di un ladro di monetine un personaggio che andava a svuotare i distributori negli ospedali e in varie strutture appunto per recuperare quanto poteva. Preso in flagrante subito dopo aver scassinato un distributore automatico all'ospedale di Montichiari per trafugarne le monete contenute. Così è finita la carriera di ladro improvvisata da un 44enne di calcinato che aveva causato nel corso dei suoi furti 8.000 euro di danni a vari distributori, cambia monete e macchinette in genere. Tutto è partito da alcune denunce che hanno attivato il lavoro dei carabinieri di Carpenidolo. L'indagine è iniziata con i video di sorveglianza che hanno permesso di individuare un sospetto subito pedinato dai militari. Dopo alcune notti di stretta sorveglianza l'uomo si è nuovamente dato la sua attività illegale introducendosi nell'ospedale di Montichiari dove ha forzato con un cacciavite un distributore trafugando 60 euro in monetine. Peccato che ad attenderlo a pochi metri ci fossero proprio i carabinieri che lo hanno arrestato dopo un breve inseguimento a piedi e una collutazione. Oltre all'accusa di furto aggravato quest'ultimo gesto è costato al 44enne un'ulteriore accusa per resistenza pubblico ufficiale. Rimangono ancora molto gravi le condizioni del sub che si era inabissato ieri nelle acque del lago d'Idro si è sentito male, è stato recuperato ed ora, come dicevamo da ieri, sta lottando tra la vita e la morte. E' ancora ricoverato in gravi condizioni gli ospedali civili di Brescia il 36enne che nel tardo pomeriggio di domenica si è immerso nel lago d'Idro senza poi più riemergere. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30 Un uomo, dopo essersi tuffato nelle acque del lago nei pressi della frazione di Vesta, è scomparso. Fortunatamente, molti presenti hanno contribuito al suo salvataggio anche prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e delle due ambulanze. Necessario però anche l'intervento dell'elisoccorso giunto da Verona poiché le condizioni del 36enne, anche dopo il suo recupero, sono apparse molto gravi. L'elicottero lo ha quindi trasportato ancora in codice rosso nel nosocomio cittadino, dove ora lotta fra la vita e la morte. E adesso in breve vediamo altre due notizie di cronaca. Era già stato arrestato due volte negli ultimi mesi, ma evidentemente questi provvedimenti non erano bastati a far desistere un quarantenne di borno dalla sua attività di spaccio. I militari della stazione di Breno hanno effettuato un controllo sull'uomo mentre usciva dalla sua abitazione. E dopo una perquisizione, hanno ritrovato 20 grammi di hashish oltre all'occorrente per confezionare le dosi e una serie di appunti con la contabilità delle cessioni illegali di droga. Per lui sono scattate le manette e l'arresto è stato convalidato con obbligo di firma giornaliera. Controlli dei carabinieri sulle strade e non solo dell'Alta Val Camonica in questo periodo in cui la zona si ripopola di turisti. Nella notte fra sabato e domeniche i militari hanno ritirato due patenti di guida dopo la positività all'alcol test. Si tratta di un veti 3enne e di un 19enne con un tasso alcolemico rispettivamente di 1.33 e 1.12 grammi litro. A Borno, inoltre, una pattuglia è dovuta intervenire per prestare il soccorso a due minori di 15 anni che avevano alzato un po' troppo il gomito in una serata di festa. I carabinieri li hanno ritrovati mentre erano sdraiati, ubriachi, su una panchina. Entrambi sono stati riaffidati ai loro genitori. Pochi secondi di pausa, chiudiamo questa prima parte del giornale e tra poco lo sport. Rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Spreaker e Google Podcast. Buona serata anche agli amici sportivi. E allora, apriamo con ovviamente Pirlo che è la Juventus, allenatore della Juventus, lo sapete, da ormai 48 ore. Ma quello che ancora non è ufficiale è che potrebbe arrivare anche qualcun altro bresciano con Pirlo sulla panchina bianconera. Ormai è ufficiale già da alcuni giorni. Il campione bresciano Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Un altro pezzetto di brescianità, però, sembrerebbe molto vicino alla panchina bianconera. Ad affiancare il centrocampista di Flero, infatti, ci sarà un altro ex giocatore delle rondinelle e bresciano Doc, come Roberto Baronio. L'ex calciatore nato a Manerbio nel 1977, infatti, dovrebbe rientrare nella squadra di assistenti di Pirlo in questa azzardata avventura d'esordio. In realtà, a differenza di Pirlo, Baronio può già vantare esperienze in panchina, sia in ambito federale con le nazionali minori, sia con le primavere di Brescia e di Napoli. Ora il primo approdo nella massima serie per allenare i campioni d'Italia dopo la rumorosa caduta in Champions League e la nuova ripartenza. Nel frattempo, grande movimento in casa pallacanestro Brescia perché questa mattina è stato presentato Crawford e Kalinowski nel acquisto della società che vestirà appunto la maglia della pallacanestro Brescia già dalla prossima stagione. Proseguono ritmi spediti le presentazioni. In casa Germani, in vista del ritorno in campo già al partire dal 27 di agosto per la Supercoppa. Dopo quella di Andrea Ancelotti e Giordano Bortolani, è stata la volta anche di Drew Crawford e Tyler Kalinowski, presentati ufficialmente nella nuova serie del club alla presenza della presidente Graziella Bragaglio e dell'allenatore Vincenzo Esposito. «Dol benvenuto a questi due giocatori importanti», ha detto la presidente Bragaglio. «Stiamo perfezionando l'arrivo di tutti i componenti della rosa. Mancano ancora due giocatori. Abbiamo assemblato una squadra di grande energia che ha componenti importanti in ogni ruolo. Speriamo di entrare in campo il prima possibile perché abbiamo grande voglia di vedere questi ragazzi all'opera». Stando alle parole di Esposito, Crawford, giovane ma con tanta esperienza, sarà il sostituto perfetto di Abbas, capace di coprire due o tre ruoli sul campo. Di Kalinowski, coach Esposito, ha elogiato invece la voglia di migliorarsi continuamente e le qualità per riuscire a fare bene nel gruppo di esterni della Germani. «Il calcio ora, ma il calcio amatoriale, il calcio dei tornei, perché al Clavazzone si è concluso il torneo notturno di calcio A5. Vediamo com'è andato e lo vedremo tra poco. Prima abbiamo però da vedere nell'ambito della presentazione della Feralpi Salò. Quest'anno la società ha stretto una collaborazione importante nell'ambito della nuova stagione con Sport Economy, il portale che ha scelto proprio la Feralpi Salò per motivi particolari e ce li spiega il direttore Marcel Vulpis. Sport Economy in partnership in questa stagione con Feralpi Salò, cosa significa? Seguiremo per tutta la stagione sportiva prossima tutte le notizie di marketing e di comunicazione del club in modo approfondito all'interno di una piattaforma integrata verticale che si occupa di economia e politica dello sport. È la prima volta che avviene in Italia che un'agenzia giornalistica si affianca a un club, il primo a far parte di questa piattaforma integrata sportiva è Feralpi Salò, seguirà poi un club di serie A, uno di B e uno di D. Quindi ci saranno alla fine un gruppo di quattro club che noi affiancheremo e seguiremo per valorizzare i contenuti delle aziende partner. E adesso sì, parliamo del torneo di calcio A5 che si è concluso al Club Azzurro, il torneo in notturna, sentiamo com'è andato. Grande entusiasmo per questa prima edizione, hanno partecipato 12 squadre che hanno potuto godere dei due nuovi campi di calcio A5 e hanno potuto anche usufruire dell'aria bar e farsi un tuffo in piscina tra una partita e l'altra. C'è stato tanto coinvolgimento delle squadre e anche dei tifosi e siamo molto contenti di questa prima edizione. È stato un torneo in notturna, come è stata la notte? La notte è stata abbastanza tranquilla perché comunque dopo la mezzanotte abbiamo tenuto un ritmo un po' più tranquillo. Prima, dalle 18 alle 24, comunque c'è stata tanta musica, tanto divertimento sul bordo Pasca e siamo contenti. Sul fronte agonistico abbiamo premiato le prime quattro classificate. La prima edizione è stata vinta dalla squadra Red Bull, seguita dal secondo posto della squadra Marconi che ha goduto di due premi individuali, il miglior portiere e il capo cannoniere. Al terzo posto si è classificata l'immobiliare Corte degli Archi, mentre al quarto posto la squadra Real Madrid. L'età degli atleti? L'età degli atleti tra i 16 e i 25 anni, quindi età media sui 20 anni. Sono stati molto corretti in campo e li ringraziamo per questa grande partecipazione e per la grande collaborazione. Prossima iniziativa in campo? Li aspettiamo per il torneo femminile che si disputerà il 5 settembre, nella giornata di sabato, dalle 17 alle 24. E poi, sempre nei mesi di settembre, andremo a disputare un altro torneo di calcio a 5 che durerà per tre settimane, dal 7 settembre al 25 settembre. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi. A tutti gli auguri di una buona serata.